le vostre ultime mail mi hanno fatto prendere in considerazione un altro problema non che non l'avessi preso in considerazione però probabilmente ho aspettato o aspettavo troppo prima o poi l'avrei fatto ma è giusto farlo adesso visto che le mail me l'hanno me sollecitato o aspettato forse aspettavo troppo tempo per doverlo analizzare il problema di coloro che non si sentono rappresentati ci sono molte persone che mi scrivono e mi dicono guarda io non voto da nessuna parte perché non mi sento rappresentato e ci sta tutto come discorso però io direi che vale la pena proprio spendere qualche minuto di riflessione veramente pochi su un discorso del genere però insomma quello che ci sta all'interno di un video per affrontare un pochino questo discorso dell'indecisione perché è un discorso che merita tutto il rispetto possibile immaginabile il discorso del dell'indecisione è un grande problema io direi che bisogna partire da un'analisi però molto importante per cercare di risolvere questo problema dell'indecisione io credo che ognuno di noi se pensa veramente intensamente profondamente in questo momento seppur minimamente si sente non rappresentato ed è giusto in fondo sentirti non rappresentato cioè con nessuno che ti rappresenta perché la politica nel corso di questi anni ci ha insegnato ad essere troppo delegatori ci ha insegnato a essere non protagonisti ma delegatori e allora noi spesso ci troviamo in questa fase di non sentirci rappresentati perché siamo troppo abituati ad essere delegatori cioè io delego delego te per determinate scelte delego te per il mio futuro e attualmente pian piano mi abituo a diventare delegatore e non partecipante e allora io devo essere rappresentato da qualcuno che mi renda sostanzialmente partecipe delle mie scelte devo poter essere operativo nelle mie scelte devo poter essere messo in condizione che se tu agisci bene mi rappresenti e se tu agisci male vai a casa devo essere messo in condizione di poter decidere su determinate scelte importanti o perlomeno decidere chi rappresenterà il mio futuro devo essere messo in condizione di poter scegliere e quindi di essere partecipe noi dobbiamo diventare i rappresentanti di noi stessi e scegliere chi ci possa rappresentare cosa che non siamo più abituati a fare ovviamente perché in questi anni c'è chi ha sempre scelto per noi c'è chi sempre ci ha fatto credere di farci essere protagonisti ma non l'ha fatto perché abbiamo sempre scelto degli schieramenti che i partiti hanno deciso a tavolino per noi perché scendiamo un leader che poi non è detto che sia quello perché fa parte di una coalizione comunque e allora voi capite che proseguendo di questo passo è molto facile sentirsi non rappresentati e qualcuno a tal proposito potrebbe venirmi a dire sì tu ovviamente simpatizzi per il movimento 5 stelle ti senti rappresentato e allora cerchi di portare l'acqua al proprio mulino primo punto io non cerco di portare l'acqua al mulino di nessuno perché a me portando l'acqua al movimento 5 stelle non mi rintasca proprio nulla e è vero che io simpatizzo per il movimento 5 stelle questa è una verità di fatto non posso negarla secondo punto io mi sento totalmente rappresentato dal movimento 5 stelle no, io mi sento totalmente rappresentato da me stesso il movimento 5 stelle mi dà l'opportunità, me ne dà due di opportunità la prima che è quella di scardinare questa non rappresentazione cioè di rendermi, di dare la possibilità di rappresentare me stesso a me stesso la seconda opportunità è che all'interno di questo movimento c'è la possibilità di essere partecipi uno dà il voto al movimento 5 stelle per essere partecipe non per delegare perché dare il voto al movimento 5 stelle come delega non ha nessun valore, nessun significato il discorso della rappresentazione va fatto secondo me sotto un altro punto di vista io devo rappresentare me stesso, non essere rappresentato perché? perché siamo tutti esseri umani e se uno è obiettivo sa benissimo che anche all'interno del movimento 5 stelle riuscirà a infiltrarsi il disonesto anche all'interno del movimento 5 stelle riuscirà a infiltrarsi la persona che andrà per interesse e non per amor proprio, per amor di patria come in qualsiasi altro movimento anche all'interno del movimento 5 stelle potrebbero verificarsi delle inadempienze delle imperfezioni ci mancherebbe, fanno parte dell'essere umano e quindi anche qui si andranno a verificare sarebbe inapportuno, disonesto negare il contrario però qui c'è una caratteristica che io posso rappresentarmi c'è un programma che mi rende rappresentante di me stesso delle mie scelte e io proprio all'interno di questa mia rappresentazione posso decidere e allora noi dobbiamo scegliere una forza non che ci rappresenti ma che ci renda rappresentanti rappresentanti di una nostra situazione io capisco l'indeciso è capibile, è comprensibile però bisogna vedere questo cambiamento non nell'ottica di qualcuno che ci rappresenti alla perfezione perché questo non accadrà mai ma nell'ottica di qualcuno che ci renda rappresentanti di noi stessi che faccia sì che la nostra rappresentazione personale cominci a contare qualcosa io posso avere anche mille rappresentanti ma se non riesco a rappresentare me stesso se la mia rappresentazione non ha alla fin fine potere decisionale i miei rappresentanti non contano niente perché possono soggiogarmi come vogliono ma nel momento in cui io sono rappresentante di me stesso e la mia rappresentazione conta qualcosa e ci sono delle regole che danno un limite ai miei rappresentanti di soggiogarmi perché hanno un limite temporaneo poi andranno via andranno a casa si smuoveranno dalla sedia allora la mia rappresentazione comincia a contare qualcosa ma il voto al Movimento 5 Stelle che può essere un voto di convinzione o può essere un voto di protesta non va dato va dato sì in fiducia se è un voto di convinzione se è un voto di protesta non va dato tanto alla fiducia che può essere data né più né meno tanto quanto venga data a qualsiasi movimento ma va data proprio come possibilità di rappresentare se stessi di dire adesso le regole comincia a farle il cittadino e tra i cittadini ci sono anch'io quindi le regole le comincio a dettare anch'io in quest'ottica va fatto il voto di cambiamento o il voto di protesta chiamatelo come volete in questi termini va fatto se no non ha nessun senso perché saremmo punto e a capo perché se ognuno di noi non comincia a sentirsi protagonista del cambiamento non comincia a sentirsi un pezzo di cambiamento non comincia a sentirsi una parte di cambiamento non ne veremo mai a capo di questa storia io informo tu informi egli informa siamo una parte di cambiamento e allora dobbiamo darci la possibilità di poter informare sempre meglio di essere partecipi magari in seguito non solo con informazione anche in qualche altro modo anche magari nell'attività del nostro piccolo paese anche magari nell'attività della scuola dove il nostro figlio va ma poter finalmente cominciare a svolgere il nostro piccolo grande ruolo che noi abbiamo in modo rappresentativo in modo concreto da persona e non da numero da qui deve partire il cambiamento noi dobbiamo portare il vostro voto dove questa possibilità di garanzia di partecipazione è maggiore non tanto dando fiducia a un movimento ma dando fiducia a questo movimento proprio perché in questo momento ci sono anch'io all'interno di questo movimento e questo movimento mi dà la possibilità di partecipare di fare o disfare determinate regole se no non serve a niente se io voto per dare la fiducia a questo movimento che mi andrà a delegare il mio voto non servirà a niente se io voto questo movimento perché sono partecipe di questo movimento allora il mio voto serve a qualcosa noi siamo stati abituati in questi decenni a diventare dei delegatori e non dei protagonisti sostanzialmente è quello il discorso la politica ci ha abituato ad essere delle palline in un'urna che girano a piacimento di chi comanda degli oggetti siamo abituati ad identificare le persone ancora in base al colore in base alla destra e alla sinistra e non in base a quello che hanno in testa e questo è il nostro dramma e per questo siamo spesso indecisi è per questo che siamo diventati delegatori ma noi dobbiamo toglierci da questa posizione e da delegatori dobbiamo diventare partecipanti e chi ci dà l'opportunità di partecipare correttamente? chi ce la dà? non ve lo dico perché sapete già dove voglio andare a parare ma analizzate da voi chi ve la dà questa opportunità e poi fate la vostra scelta ma fatela in base a questa analisi fatela sull'analisi della partecipazione e non della rappresentazione perché se no è finita se continuiamo a voler essere rappresentati è finita noi dobbiamo rappresentarci non essere rappresentati è questo il punto è questa la forza che andrà a distruggere questa classe politica se non c'è questa forza questa classe politica non la distruggiamo più cos'è in fin dei conti la rivoluzione la rivoluzione è quando io sono stufo e dico basta adesso non mi rappresenti più adesso vado a rappresentarmi da solo questa è la rivoluzione è questa la rivoluzione il voto al Movimento 5 Stelle va visto in quest'ottica non sull'ottica della fiducia del Movimento ma sull'ottica della rivoluzione io adesso mi rappresento da solo non ho bisogno più di te che mi rappresenti comincio a rappresentarmi da solo e allora nel momento in cui io comincio a rappresentarmi da solo non ho più bisogno della tua rappresentazione la posta in gioco cambia in quest'ottica va visto il voto di cambiamento in quest'ottica va visto un movimento come il Movimento 5 Stelle nell'ottica in cui io sono partecipe nell'ottica in cui essendo io partecipe le cose se non vanno bene le cambio e sono io a cambiarle sono i cittadini a cambiarle in bene alcune cose cambieranno in bene alcune cose cambieranno in male e bisognerà raddrizzarle in bene ma questo accade con tutti i partiti perché tutti i partiti sono composti da esseri umani onesti o disonesti e l'onesto e il disonesto ci sarà anche qua ripeto sarebbe un'eresia ammettere il contrario sarebbe un'eresia però qui io posso giocare qui io posso realizzare io posso cambiare perché sono partecipe di là no e allora cari indecisi io vi invito a riflettere perché se non diventate rappresentanti di voi stessi mai nessuno vi rappresenterà perché se noi non diventiamo partecipanti e continuiamo ad essere delegatori state più tranquilli che le cose non cambieranno mai perché l'attuale classe politica non si distruggerà mai se non la cambiamo noi quando staremo proprio male ma proprio non ce la faremo più allora forse la cambieremo con la rivoluzione e allora capite che da delegatori diventeremo partecipanti ma visto che abbiamo ancora una possibilità e sarà una delle ultime possibilità a nostra disposizione di diventare partecipanti senza rivoluzione o perlomeno di provarci dal mio punto di vista vale assolutamente la pena giocarci quest'ultima a mio avviso possibilità il fatto stesso che non sia nato nessun altro movimento e che il Movimento 5 Stelle sia rimasto l'ultimo baluardo di partecipazione a nostra disposizione questo vuol dire che il campo è sempre più ristretto e che difficilmente se si vaporizzerà questa possibilità ne nasceranno altre se si vaporizzerà questa possibilità la prossima possibilità di partecipazione sarà la rivoluzione e qui non c'è bisogno che spenda troppe parole in merito perché se fate un'autoanalisi di tutta la situazione e anche di voi stessi capite che è così non c'è bisogno di spendere troppe parole in merito e allora io vi invito veramente col cuore a riflettere su questo tipo di situazione il non sentirsi rappresentati è comprensibile ma dobbiamo aprire la nostra mente e il nostro cuore e capire che noi dobbiamo rappresentare noi stessi con il nostro tempo con le nostre fatiche con le nostre idee con il nostro cuore con i nostri pensieri con le nostre possibilità operative sia in ambito lavorativo che in ambito partecipativo politico e sociale in quest'ottica va visto il cambiamento e io sono convinto che se buttiamo via questa opportunità difficilmente ne avremo un'altra avremo forse la rivoluzione ma abbiamo ancora una possibilità proviamoci non buttiamola via riflettete su quanto vi ho detto come al solito potete scrivere a evolutorechiocciolagmail.com come potete ben notare le vostre email vengono prese in considerazione anche i commenti ai video vengono prese in considerazione se no magari mi sarebbe anche sfuggito sarei arrivato magari troppo in ritardo a commentare questo fatto degli indecisi o di coloro che non si sentono rappresentati l'ho anticipato grazie a voi grazie alle mail e ai commenti che mi sono arrivati ieri quindi per i commenti non c'è bisogno di ricordare nulla per le mail ricordo evolutore chiocciolagmail.com ringrazio tutti coloro che seguono il canale evolutore le vostre idee i vostri consigli i vostri suggerimenti sono sempre e anche le vostre critiche sono sempre ben accette e anche i vostri complimenti fanno sempre piacere perché arriva un po' di tutto e a me fa piacere tutto poi appena finirà questo momento critico un momento di di decisioni importanti li prenderemo rientreremo nei soliti temi che affronta il canale evolutore temi dell'anima temi spirituali che chiaramente caratterizzano un po' questo canale però spiritualità vuol dire anche occuparci del nostro benessere e il nostro benessere in questo momento necessita di scelte importanti e quindi è giusto occuparci occuparsi anche di questo momento cruciale di questo momento particolarmente importante grazie per la cortese attenzione buona giornata a tutti grazie grazie